Nuova proposta, oggi sono al confine tra Prata Camportaccio e Chiavenna in una palazzina al quarto piano servito da ascensore per proporvi un bilocale di circa 88 metri quadri, sono ampi spazi, infatti con una ristrutturazione si potrebbero ricavare una seconda camera e un secondo bagno. Ad oggi è composto da un ampio ingresso con una cucina abitabile, un salone, una camera matrimoniale e il bagno. Il tutto è servito da un ampio balcone esposto a sud ovest. Io come sempre vi lascio tutti i miei recapiti nella descrizione di questo video per qualsiasi domanda oppure per organizzare una visita. Ora vi lascio il video e buona visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti!